Produrre cioccolato è un'arte, lo stiamo scoprendo qui a Taranto attraverso il festival del cioccolato, siamo con un artigiano del cioccolato, Enrico Candiano e vedete cosa sta scolpendo, letteralmente scolpendo. Sto scolpendo i due delfini, simbolo della città di Tara. Un omaggio alla nostra città? Ovviamente, alla vostra città. Quanto tempo ci mette? Di solito un due giorni, questo è il secondo giorno che ci lavoro. Quindi lei ha il prodotto, la massa complessiva che poi deve sbozzare? In tutti gli effetti una scultura, 360 gradi. È una passione sua o è un lavoro, quindi un'attività sua o ereditata? No, no, un'attività mia che ho studiato pure accademie ed arti appunto per raggiungere questi risultati. Lei è anche goloso? Eh sì, non si nota ma sono goloso.